Siamo a Seoul, oggi andiamo a vedere la torre più alta della città. Per arrivare qui bisogna fare una bella salita, quindi armatevi di ventilatore perché fa troppo caldo. Poi si arriva qui, dove si prende la funivia. Opzione, solo all'andata funivia e ritorno a piedi o opzione tutte e due. Si comprano anche i lucchetti stile Ponte Emilio. Questa è la fila. Eccoci qua, siamo su Funivia. Sono in mezzo a un botto di gente e ho una vista di merda. Ok, adesso ci attacchiamo. E siamo belli al mondo. No vabbè, guardate quanti, quanti lucchetti. E questa è la Seoul Tower. Che vista, raga. Peccato che è tipo nuvoloso. Saliamo. È molto carino perché puoi anche tipo veramente sederti e mangiare. La vista è stupenda. C'è un negozio caramè.